Una volta che ci si rende conto che un problema ci potrebbe essere, la domanda può essere a chi ci si rivolge? Bisogna rivolgersi prima di tutto al pediatra o al medico di famiglia di medicina generale, se la persona è un adulto, che saprà indirizzarci verso il centro per la cura di disturbi alimentari più vicina alla persona. Online esiste poi un sito che si chiama www.disturbialimentarioonline.it, dove è indicata tutta la mappa dei servizi specializzati per la cura dei disturbi dell'alimentazione in Italia, quindi è un punto di riferimento molto importante. Il Ministero della Salute ha messo a punto un documento per i familiari che contiene alcune raccomandazioni che spiegano che cosa sono i disturbi dell'alimentazione, come si curano e a chi rivolgersi e sono linee guida molto importanti che vi suggerisco di leggere. Si può uscire da un disturbo dell'alimentazione, anche se il percorso bisogna tenere bene a mente che è molto duro, lungo e faticoso e richiede un grandissimo impegno da parte dei medici, da parte del paziente e anche da parte dei familiari. Tutti i clinici sono concordi nello stabilire che i familiari devono essere coinvolti in tutte le fasi del percorso terapeutico della persona e quindi con un impegno congiunto ne possiamo uscire, però non dobbiamo pensare che a seguito di un ricovero, magari anche in un ambiente specializzato per la cura dei disturbi alimentazioni, si ottenga una guarigione. Questo non dobbiamo aspettarcelo perché per guarire da un disturbo alimentare ci vogliono almeno un anno e mezzo, due anni di terapia continuativa che implica l'impegno di tutti. Ovviamente vale la regola che abbiamo detto prima, più precoce è la diagnosi, migliore è la prognosi, quindi è bene intervenire il prima possibile. Prima si interviene, maggiori sono le probabilità di uscirne. Per i disturbi che durano già da 7-10 anni si parla di disturbi severe ed enduring, ovvero gravi e di lunga durata e in questi casi l'impegno deve essere ancora maggiore.